L'86,4% delle risorse che arrivano dal decreto sblocca debiti della pubblica amministrazione ha preso la via delle regioni del centro-sud, con una netta supremazia conquistata dai comuni della campagna che si sono accapparrati un terzo dei fondi disponibili, 588 milioni, seguiti dal Lazio e dalla Calabria. È la geografia delle risorse già liberate con il primo provvedimento disegnata dalle tabelle elaborate per il sole 24 ore dal centro studio di sintesi, a mostrare l'urgenza di pensare a nuove regole e a regime che oltre a liberare gli investimenti da parte degli enti pubblici in grado di programmarli, provino a risolvere i problemi prima che si trasformino in malattie terminali. È uno studio che dice che l'85% dei fondi sbloccati dal governo per pagare i debiti della pubblica amministrazione paiono andare alle regioni del centro-sud, paiono andare a quelle amministrazioni pubbliche che hanno avuto più debiti, non sono state virtuose, non hanno saputo fare risparmi e quindi sono state, chiamiamo, favorite da questo decreto. Mentre le amministrazioni del nord che sono state più virtuose non hanno sprecato e vengono penalizzate, cioè l'85% dei fondi va al sud. Ancora una volta un decreto che doveva essere nell'interesse delle imprese del nord viene purtroppo disatteso. E il quotidiano sulle 24 ore a chi dà la colpa? Al fatto che all'interno del decreto è previsto che queste somme vanno inizialmente ai comuni che hanno maggiori debiti e se essendo i comuni che hanno maggiori debiti quelli del centro-sud perché non sono stati virtuosi rispetto a quelli del nord che sono stati virtuosi, le risorse vanno in quella direzione.